Di professione maestro elementare, Tordi ha interpretato nella sua lunga carriera cinematografica una novantina di film, a partire dagli anni trenta fino alla sua morte. È ricordato soprattutto per i ruoli ricoperti in pellicole come divorzio all'italiana. 1962, nella parte dell'avvocato difensore del barone Icefalù, Strazia Mima di Bacisaziani. 1968, nella parte dello zio Frateini in nome del popolo italiano. 1971, dove interpreta il professor Rivaroli. Molto presente nella prosa radiofonica dagli anni trenta prima nell'Eyar. Successivamente nella RAI e in televisione dall'inizio delle trasmissioni negli anni cinquanta. Lavorò in commedia e sceneggiati. Fra cui, nel 1962, il caso Mauritius.